Nella ricorrenza del giorno del ricordo, la giornata istituita in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confino orientale, è stata inaugurata la biblioteca di Pietra, situata sulla nuova scogliera radicata sul molo di Levante, protesa nel mare, verso la costa al di là dell'Adriatico, fatta da una selezione di opere e autori tra i più significativi di quelle terre, che hanno narrato brani di quella storia, ne hanno interpretato l'umanità e il dolore. Sui blocchi della nuova scogliera che si protende verso il mare, realizzata proprio in Pietra d'Istria, come la terra che si vuol ricordare, le targhe incise dai titoli e dagli autori più rappresentativi. La cerimonia è stata l'occasione per aprire ufficialmente ai cittadini il camminamento della nuova scogliera sul molo di Levante, un intervento integrato che ha avuto inizio con la rimozione dei pannelli realizzati da Aaron, che dal 2006 hanno decorato la zona, sostituito inoltre tutto l'impianto di illuminazione con 17 pali e lampare ornamentali. In corso anche la sostituzione di arredi, cestini e panchine sul piazzale. È stato però l'intervento per abbattimento delle barriere architettoniche della rampa pedonale d'accesso al camminamento, posto sulla sommità della nuova scogliera, a rendere possibile l'accesso al pubblico, che sarà regolato in base all'ordinanza comunale emessa nei giorni scorsi dal direttore dei lavori pubblici del comune di Rimini. L'accesso sarà sempre consentito, tranne per ragioni di sicurezza, nelle ore notturne e con condizioni meteomarine avverse.